Buon pomeriggio, buon pomeriggio dalla Mezzia Terme, amiche, amici, buon mercoledì, che bello, che bello. Stamattina ho visitato un posto incantevole, non c'ero mai stato, Serra San Bruno, sulle montagne di Vibo Valencia. C'è uno dei due monasteri certosini, fondato per l'appunto da San Bruno, uno è lì dove vivono tuttora 11 monaci che pregono, lavorano e producono. L'altro è in provincia di Lucca, mentre l'unico di monache è rimasto in provincia di Savona. Però una bellissima aria, bellissima gente, c'era una piazza, l'ho documentata con almeno mille persone un mercoledì mattina, bello, bello, bello. E il bello è che è tutta gente che chiede lavoro, 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 pulizia, tranquillità, sicurezza, strade e ospedali. Questo in Calabria come in Emilia-Romagna. Mi sembrava la gente che ho incontrato ieri sull'Appennino bolognese, a Porretta Terma, a Castiglion dei Pepoli. In tutte le splendide valli che ho avuto l'onore di conoscere e che tornerò a conoscere perché ovviamente molti politici si fanno vivi solo prima del voto e poi spariscono. La Lega c'è anche dopo. Voglio dire un grazie a un grande uomo, a un grande sportivo, a un grande guerriero. Sinisa Mihailovic ha avuto il coraggio che altri non hanno e quindi stamattina sul resto del Carlino il quotidiano bolognese ha fatto un'intervista in cui mi fa i complimenti per quello che sono e per quello che faccio e dice che sostiene me, la Lega e Lucia Borgonzoni. Grazie, grazie Sinisa. Grazie a nome di tanti uomini e donne del mondo dello sport, della cultura, dell'arte, del teatro, della musica, che magari tacciono per paura perché poi ovviamente se dici qualcosa che sta scomodo al sistema radical chic, ben pensante di sinistra, apriti cielo, quindi onore al guerriero Sinisa. In rete ci sono squalli di attacchi, minacce di morte ai giornalisti del Carlino, ironie veramente fuori luogo sui tumori, sulle leucemie. Ecco, neanche di fronte alla guerra e alla battaglia contro la malattia, certa gentaglia si ferma. Pazzesco, quindi un abbraccio a te Sinisa, a tutto il Bologna, a tutta la tua famiglia e a tutta la Bologna per bene, sorridente, una città con un'università straordinaria, antichissima, Bologna la dotta, la grassa, la colta. Bologna non è quella degli spacciatori del quartiere Pilastro, dove io ieri ho avuto l'onore di incontrare una mamma coraggiosa, una mamma coraggiosa che da anni si batte contro lo spaccio di droga a cielo aperto e si batte con una motivazione in più perché ha perso un figlio per droga e per overdose. Quindi ci mette la faccia, ci mette il rischio, ci mette le denunce, le segnalazioni, la polizia, i carabinieri. Una mamma coraggio che dovrebbe abbracciare, unire. Invece qualcuno riesce a fare polemica anche su quello perché noi siamo andati a disturbare la piazza dello spaccio. Ma vi rendete conto? La lotta contro la droga dovrebbe unire la politica. La politica potrebbe dividersi su tutto, sulla riforma della giustizia, sull'autonomia, sulle tasse. A proposito, il governo ha scoperto anche la tassa sulla casa a carico dei pensionati che vivono all'estero e che hanno una proprietà in Italia che dovranno pagare come prima casa anche se vivono all'estero. Ma vi rendete conto che fra un po' si paga anche l'aria che si respira? Se uno è residente all'estero, perché mai dovrebbe pagare la tassa sulla prima casa in Italia quando vive da un'altra parte? Ecco, però su questo la politica si può dividere, per carità di Dio. Di Maio si è dimesso, arriverà un altro dopo di lui. Non commento e dico solo che la rivoluzione fallita è sulla coscienza del signor Beppe Grillo e della sua scelta di imporre l'alleanza col PD, con Renzi, con Zingaretti, con la Boldrini, con Franceschini, con Gentiloni. E la sta pagando. E gli elettori dei 5 Stelle, in buona fede, che sono tanti, anzi che erano tanti, in tutta Italia, e la stanno facendo pagare, vedrete domenica, in Emilia Romagna e in Calabria. Quanti ex elettori dei 5 Stelle sceglieranno la Lega? Perché molti, soprattutto in Emilia Romagna, dove sono nati i 5 Stelle, o in Calabria, dove il sistema del potere del PD è assolutamente devastante, sono entrati in politica credendo nei 5 Stelle e nella rivoluzione, nel cambiamento, nel nuovo. E adesso si ritrovano alleati di Renzi e Zingaretti. Quindi è chiaro che io non do colpi a Di Maio, però è il signor Grillo che ha scelto, per amor della poltrona, di costringere i suoi eletti a sposare il PD, e gli elettori scappano. Dicevo, ma su questo ci si può dividere, sulla lotta, la droga no. Ecco, poi vedo i radical chic milionari di sinistra che si fanno vivi in campagna elettorale, come sempre oggi mi hanno attaccato il signor Fedez e il signor Fabio Volo. Io non ho tempo per polemizzare né col signor Fedez né col signor Fabio Volo, che fanno cose migliori delle mie, sono persone più belle, più degne e più importanti di me, però quando il signor Fabio Volo mi invita a citofonare ai camorristi, non sa, Fabietto ignora, le numerose minacce di morte che Matteo Salvini ha ricevuto dai mafiosi, dai mafiosi, dai Casamonica, a cui personalmente ho dato il primo colpo di ruspa per distruggere una villa confiscata. Il signor Fabio Volo dov'era quando sono andato a San Luca, nella Spromonte, a Palmi, a consegnare alla Polizia di Stato una villa sequestrata alla mafia? Sono stato a Castelvolturno, sono stato a Corleone a inaugurare una caserma della Polizia di Stato sequestrata alla mafia. Ovviamente a tanti mafiosi non sono e non sarò mai simpatico, a tanti portatori di morte, e quindi le minacce di morte sono sostanzialmente quotidiane. I signori Casamonica, a cui appunto si sono confiscate ville su ville, si sono abbattute ville su ville, e una di quelle ville in una periferia romana è diventata una biblioteca, un giardinetto per bambini, e per me è stato un onore, ecco io inseguivo i Casamonica, il signor Fabio Volo inseguivo i Quatrini. E quindi lezioni di moralità sulla lotta alla mafia, alla camorra e all'andrangheta non ne prendo. Fedez dice che sembra un testimone di Geova che citofono. Hai qualcosa contro i testimoni di Geova? Io non mi sono introdotto in casa di nessuno. Se poi gli spacciatori sono italiani, tunisini, finlandesi e squimesi, non mi interessa. Io ritengo che sia mio dovere, come dovere di ogni altro cittadino italiano, se ci sono denunce delle mamme, dei papà, delle nonne di un quartiere, ad andare a segnalare degli spacciatori di droghe e di morte, a dare loro voce. A dare loro voce. Mentre i signori Fabio Volo e Fedez, giustamente con il loro talento fanno i soldi, fanno i milioni scrivendo libri, scrivendo canzoni, non ho la minima invidia o la minima gelosia. Lunga vita, lunga fortuna, si vede che evidentemente siete bravi e quindi state guadagnando tanti soldi, però la lotta alla mafia, alla camorra, all'andrangheta, agli spacciatori di droga lasciatela fare. A chi l'ha fatta e alle forze dell'ordine. A polizia e i carabinieri, che li arrestano gli spacciatori, per vederli in giro il giorno dopo. Perché c'è una legge italiana tollerante nei confronti degli spacciatori di droga, ma perché ci sono anche politici italiani tolleranti nei confronti di alcune droghe. Anzi, in Parlamento qualcuno propone legalizzazioni, liberalizzazioni, vendite, libere, nei negozi, nelle strade, nei giardini, coltivazioni nelle case. Te la portano adesso a casa come la pizza e come il sushi. La droga no, no, no. Lotta alla droga, sempre e comunque, al quartiere del Pilastro a Bologna, alla Montagnola a Bologna, in stazione a Modena, come in stazione centrale a Milano, come a Rogoredo, come nei quartieri di Napoli. La droga uccide, la droga fa male, la droga dovrebbe unire. E non mi interessa se gli spacciatori sono italiani, tunisini, gli spacciatori vanno messi in galera. In Italia è pieno di immigrati per bene. Lo dico a qualche politico di sinistra e a qualche ONG di sinistra che in Tunisia fa i soldi, grazie all'immigrazione, grazie al traffico di esseri umani. Il problema non sono i tunisini, gli italiani, i milanesi, gli americani o i nigeriani. Il problema sono i delinquenti, che non si distinguono per il colore della pelle, per etnia, per razza. In galera, in Italia, in questo momento ci sono più di 2.000 tunisini. Quelli sono 2.000 delinquenti tunisini. In questo momento, nelle fabbriche, nei negozi italiani, ci sono altre migliaia di tunisini che stanno lavorando. Quelli sono cittadini per bene. Capito la differenza? Però è incredibile come ci sia qualche radical chic, qualche benpensante, che preferisce evidentemente chi difende la droga a chi combatte la droga. Io inviterei questi fenomeni ad andare a San Patrignano. Andate a San Patrignano. Andate fra quelle ragazze e quei ragazzi. Andate ad ascoltare quei medici, quei volontari, quegli psicologi, quegli assistenti sociali. Andate a parlare con le mamme e con i papà di ragazzine di 15 anni rovinate dalla droga. Canne, cocaina, eroina, pasticche, fentanil, droghe sintetiche, sballo, magari unite all'alcol e unite alla prostituzione. No! E io ci tornerò al pilastro a Bologna, a dare voce alle mamme e coraggio. Oggi qualche delinquente ha danneggiato la macchina del marito di quella signora. Aspetto la reazione sdegnata di Fabio Volo, di Fedez, di Bonaccini, indignati per una citofonata di Matteo Salvini e quando invece qualche spacciatore o qualche tizio o qualche persona perbene che non gradisce che si vadano a disturbare gli spacciatori danneggia la macchina di una mamma che ha perso il figlio per overdose e che da anni è in prima linea contro la droga e contro la morte, aspetto, aspetto le reazioni indegnate, aspetto, magari l'hanno già fatto e magari l'ho persa. Fabio Volo che dice vai a citofonare ai camorristi invece che agli spacciatori. I camorristi quando ho fatto il ministro li abbiamo inseguiti strada per strada, gli abbiamo fregato soldi, macchine, ville e li abbiamo messi in galera. Grazie alle forze dell'ordine io però mi vanto da ministro di aver potenziato con più uomini, più sedi e più mezzi l'Agenzia Nazionale dei Beni Confiscati alle Mafie. Mentre Fabietto Volo scriveva e Fedez cantichiava, noi assumavamo uomini e aprivamo sedi per l'Agenzia dei Beni Confiscati alle Mafie. E, perdonatemi questo mio limite, gli spacciatori non li sopporto. Gli spacciatori li vorrei vedere in galera, dal primo all'ultimo, con la pelle bianca, con la pelle nera, con la pelle gialla, con la pelle fucsia, in galera. Onore ai milioni di immigrati regolari e perbene che sono in Italia a lavorare e che ci stanno seguendo. E vedo Michaela e ne leggo tanti altri, che non vanno confusi con la gentaglia che va in giro a vendere droga. Quella è gentaglia. italiani o non italiani, quella è gentaglia che deve stare in galera. Ed è incredibile che invece di unirsi nella lotta contro la droga, ovunque venga spacciata, c'è gente che qualunque cosa accada, cos'è? Colpa di Salvini. Colpa di Salvini. Ragazzi, basta dai. Fortuna che domenica arriva il voto. Posso dirvelo sottovoce. Non vedo l'ora che donne e uomini liberi, onesti, coraggiosi, intelligenti, esprimano democraticamente e liberamente il loro voto domenica dalle 7 alle 23, in Emilia Romagna e in Calabria. Perché in democrazia è col voto che si fa la rivoluzione, pacificamente, col sorriso. E quindi noi abbiamo portato una proposta di Calabria diversa dalla disoccupazione devastante che c'è adesso. E in Emilia Romagna le proposte concrete sulla sanità, punti nascita da riaprire nelle montagne. Il passante di Bologna che non c'è, la Cispadana a Modena che non c'è, la Tirreno Brennero che parte da Parma che non c'è, l'ampliamento del porto di Rimini, l'aeroporto di Forlì, le 5.000 case popolari vuote, lasciate vuote da Bonacini in Emilia Romagna perché non hanno avuto voglia e tempo di sistemarle, da sistemare e da consegnare a italiani, a residenti in Emilia Romagna da anni. E quando dico italiani ovviamente comprendo anche donne e uomini arrivati da lontano, con i documenti a posto, che pagano le tasse, che mandano i figli a scuola e che portano rispetto. Io ne distingo fra bianchi e neri come fanno a sinistra, perché gli ultimi razzisti rimasti in Italia, gli ultimi squadristi rimasti in Italia sono a sinistra. Sono quelli che ho trovato poverini, pochini, nelle piazze a urlare anche stamattina a Serra San Bruno, molto civili, a dire scemo, vaffanculo, pezzo di merda, buffone, stronzo, Salvini non deve parlare. Ecco, questi sono gli unici razzisti e squadristi rimasti. E io sono orgoglioso invece del fatto che domenica tantissima gente sana, bella e vera di sinistra, con idee di sinistra, con tradizione di sinistra, famiglie contadine, famiglie operaie, gente con i calli sulle mani, gente con i nonni che hanno fatto davvero i partigiani, non che cantano bella ciao con Rolex al polso per fare i fighetti. Ecco, non essendoci più una sinistra, in Emilia Romagna sceglieranno la Lega. Perché ormai, ragazzi, il PD è il partito dei poteri forti, dei banchieri, dei salotti, che si occupa del festival di Sanremo. Non vincono le elezioni e quindi provano a vincere il festival di Sanremo e ce ne occuperemo da lunedì in poi. Adesso occupiamoci di lavoro, di infrastrutture che non ci sono, di case popolari da sistemare e riassegnare, di assessorato alla disabilità. Io ho chiesto questo impegno a Lucia Borgonzoni. Partire dagli ultimi, dai dimenticati, nella ricca Emilia Romagna. Disabili, persone meno fortunate, io ho incontrato famiglie che hanno problemi con l'Alzheimer e non hanno assistenza, col diabete, con l'autismo, con la SLA e non bastano i contributi. Ripartiamo dagli ultimi. In un'Emilia Romagna che è campionessa di solidarietà, di generosità, di cooperazione, ma quella vera, terzo settore, quello vero, quello bello, quello sano, non le cooperative rosse che poi sono fallite fra Reggio e Bologna, rovinando migliaia di lavoratori e migliaia di risparmiatori. E viva le cooperative sociali, belle, vere, sane, le cooperative agricole, belle, vere, sane, che sono le prime a chiederci di tagliare i cordoni delle finte cooperative che sfruttano i lavoratori senza pagare le tasse e senza controlli. Questo è un'Emilia Romagna, una Calabria, belle, più ricche, più sicure, più sicure perché il problema, caro Bonaccini, non è Salvini, non è Lucia Borgonzoni, il problema sono i delinquenti e la lotta alla droga dovrebbe unire. Lo dico anche ai colleghi giornalisti. Aiutatemi, aiutateci, aiutate quella mamma che ha perso un figlio per Overdosa a vincere la sua battaglia. Perché al pilastro a Bologna, come in tante altre periferie italiane, italiani e stranieri vendono morte, alla luce del sole, dalla mattina alla sera, anche a ragazzini di 13 anni. E a me non interessa la nazionalità. A me interessa che quella gente venga tolta dalle strade e messa in galera perché il posto degli spacciatori di morte è la galera. E sono indignato a fronte di alcuni politici, di alcuni intellettuali o uomini dello spettacolo che dicono che però alcune droghe non fanno poi male. No, la droga uccide. Uccide la testa, uccide il cuore, uccide l'anima, uccide la coscienza. Lotta alla droga sempre e comunque. Adesso vado perché qua dalla Mezzia Terme mi imbarco. Stasera vi aspetto a Fidenza, fra Parma e Piacenza alle 8 e mezza. Domani mattina a Piacenza, poi Parma, poi Modena e ci passiamo anche in stazione a proposito di problemi di droga. Poi domani alle 18 a Bibbiano e sarà un pomeriggio di famiglia, di festa, di futuro, di liberazione. Mamme e papà, nonni e nonni. da tutta l'Emilia, da tutta la Romagna, perché poi Bibbiano è uno splendido paese. Bibbiano è un comune agricolo dove la gente lavora, dove si produce agricoltura sana per il parmigiano reggiano e non merita di essere famoso nel mondo perché qualche disgraziato, qualche delinquente, qualche fetente portata via con l'inganno i bambini, alle loro famiglie. Ci sono in questo momento, mentre siamo in diretta, 26 mila bambini lontani dalle loro case. La legge sull'affido prevede che i bimbi poi debbano tornare a casa e invece solo in un caso su dieci dopo essere portati via prego ci mancherebbe altro tornino a casa. Ecco, sono qua che gironzolo per l'aeroporto di La Mezzia Terme. Buongiorno, buongiorno, buon pomeriggio. Ragazzi, mi raccomando il voto domenica. Ciao. Adesso vado perché mi imbarco. Direzione Malpensa, poi dicevo Fidenza. Domani alle 18, Bibbiano. Aspetto mamme, papà, nonni e nonni. Ci saranno testimonianze, lo dico ai giornalisti. Sarà una giornata di amicizia, di fraternità, di riflessione, di libertà, di famiglie, famiglie belle, famiglie vere, famiglie sane. Portatevi i vostri bimbi domani. Le sardine o il PD dicono non bisogna parlare di Bibbiano. Ma chi siete voi per decidere di che cosa bisogna parlare o non parlare? Avete parlato con quelle mamme, con i papà e con i bimbi a cui qualcuno ha rovinato la vita con inganno? 26 indagati e 108 capi di imputazione. Poi a processo ci devo andare io. Dai ragazzi. E poi venerdì si riparte da Bologna e si finisce alle 18 in Piazza del Popolo a Ravenna. Tutti insieme. È bello. Poi non vedo l'ora sabato di stare un po' con i miei di bimbi che ormai il papà lo vedono in televisione, lo vedono su Facebook, lo vedono su Instagram. Però il papà con tutti i suoi limiti e tutti i suoi difetti sta cercando di offrire a voi bimbi, a voi ragazzi, a voi studenti, a voi studentesse un futuro migliore fondato sulle certezze, sulla stabilità, sulla serenità, sul diritto al lavoro, sul diritto alla vita, sul diritto allo studio, sul diritto alla salute, sul diritto a fare su famiglia. Conto su di voi. Siamo in vantaggio. Non posso parlare di sondaggi se no mi indagano per un'altra roba e di processi ne ho già a sufficienza. Però siamo in vantaggio sia in Calabria che in Emilia-Romagna. Tocca a voi mettere l'ultimo mattoncino di questa giornata di festa, di partecipazione popolare, di cambiamento dopo tanti anni, dopo 70 anni in Emilia-Romagna. Rimettiamo al centro l'uomo, la donna, il merito, la piccola impresa, i pescatori, le aziende agricole, le famiglie, i commercianti, le partite IVA dimenticati, anzi massacrati, da questo governo. con la voce che mi rimane vi dico grazie, 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 perché io ci sto mettendo impegno, idee, energia, donne e uomini competenti, però voi mi state dando in cambio una forza, emozioni, ricchezza, bontà, generosità, incredibile. anche oggi a Serra San Bruno portarmi immaginette della Madonna di Meggiugori, qualcuno la intasca, non la tiro fuori perché sennò poi qualche fenomeno di sinistra dice Salvini esibisce i simboli, però è un'emozione per me raccogliere affetto, raccogliere fiducia della gente che vale più del voto. Quindi ringrazio Maurizio, ringrazio Elena, ringrazio Daniela, ringrazio Manuela, ringrazio Antonella, ringrazio anche Fabio Volo e Fedez perché evidenziano come siamo diversi e lo dico con rispetto. Mi insultano perché dichiaro guerra a chi vende droga, a chi vende morte. Ognuno ha gli avversari che si sceglie. Io nemici non ne ho perché vivo sereno con me, con la mia coscienza e con gli italiani. La rabbia, la cattiveria, l'odio, il rancore, la gelosia, l'invidia la lascio agli altri. E mi scrive Ismet che è un albanese grazie ragazzi. La lezione migliore siete voi a migliaia su questa pagina albanesi, rumeni, marocchini, ucraini, peruviani, cinesi, cingalesi, sudamericani, nordafricani, nigeriani, persone per bene che hanno nell'Italia la loro casa, la loro patria, la patria dove cresceranno i loro figli e che danno lezioni di integrazione, di intelligenza, di bontà e di voglia di lavorare a qualche italiano ben pensante col portafoglio pieno radical chic di sinistra che è l'ultimo che rimane con le fette di salame sugli occhi. Viva la Calabria da cui sto partendo, viva l'Emilia Romagna dove sto arrivando, viva l'Italia, viva soprattutto la libertà e la democrazia che sono i beni più importanti del mondo.